C'è la lapide a Matteo Negri che dice testualmente a Matteo Negri, generale d'artiglieria e Domenico Bozzelli capitano del 6 battaglione cacciatore nobile figura ufficiale dell'esercito delle due Sicilie e prima dei loro valorosi soldati caduti sul terreno dell'onore e della fedeltà al proprio giuramento mai arretrando in un passo passaggio del Garigliano 29 ottobre 2 novembre 1860 Onore ai nostri caduti Onore Onore Ecco qua siamo nei pressi del ponte che è stato testimone di quelle grandi battaglie e resistenze da parte dei soldati barbonici di fronte a un esercito di invasori, assassini e criminali di guerra noi li ricordiamo al canali che c'è un concetto che c'è il mio non autore Grazie a tutti.